E chi dice che le lasagne devono per forza avere la carne? Ecco a voi una variante leggerissima e buonissima in frigifrice ad aria. Tagliamo la mozzarella a cubetti. Uniamo la besciamella al sugo di pomodoro precedentemente preparato. In una teglia stediamo quindi la salsa di pomodoro e besciamella, mettiamo sopra le lasagne e nuovamente la salsa. A questo punto mettiamo sopra la mozzarella a cubetti e continuiamo facendo altri strati. Io per esempio ne ho fatti quattro, ma voi potete farne quanti ne volete. Infine per l'ultimo strato mettiamo la salsa e il parmigiano. Lo spolveriamo in tutta la superficie e richiudiamo con carta stagnola. Facciamo cuocere in frigifrice ad aria ed ecco pronte le nostre lasagne al sugo senza carne. Che dite? Non sono buonissime? Questa variante è super leggera e gustosissima, senza ragù ma ugualmente favolosa. Inoltre come avete visto bastano pochissimi ingredienti. Queste lasagne super semplici e leggere piaceranno proprio a tutti. e come sempre sono facilissime e veloci da fare.